Il tuo rientro, che emozioni stai provando e quanto ti mancava. Ti chiami? Beatrice. Beatrice, il cognome? Fonda. Fonda? Fonda. Come l'altrice. Sì. Di che classe sei? Terza D. Terza D. Allora, che effetto fa? Eh, sono contenta di vedere i compagni, una lì. Adesso lo chiamiamo subito lì. E niente. Che cosa ti mancava? Mi mancava il contatto con gli amici, anche con i professori. In didattica ci si distrae. Certo. Che effetto ha fatto Faride? Lo zaino, prepararsi per venire a scuola? Fa più male del previsto, la schiena. Eh beh, certo. Quante ore avete oggi? Oggi cinque. Interrogazioni? Non dovrei. Non dovrei mai. Compito in classe? Non dovrei, però non ci so mai. Ok, grazie, grazie.